Ciao amici, siamo 5 giorni, si ristretti di qui, non la piazza per voi, tenzi un posto e non voglio riconcare questo appuntamento di centri di purellamento di nuova. E voi siete abituati anche oggi, con l'apparecchio mio preferito che si chiama Pru, che mi ha aiutato tantissimo a normalizzare i valori della persona in questa maniera, prima di tutto perché c'è tanti problematici da questo problema, che mi accelera nel tempo di ciò, mi aiuta all'immiglioramento della circolazione sanguina, questa è la cellulite, il famoso problemina di tutte le donne, limita la formazione dell'acido, diminuisce il senso di questa potenza elegante, vi ricordate dopo una giornata contati, anche con tanto lavoro e movimento, questo apparecchio è meraviglioso. Viene in un altro impalmatorio, fa da azione con la pelle, ma anche mantiene la pelle elastica, faccia il dito delle problematiche, ma la ragazzina è una chiave per la mia stitore, io sono più felice,